La speranza e l'obiettivo delle organizzazioni sindacali, reduci dall'ultimo incontro di ieri con i vertici di Coppa Alto Garda in merito alla difficile ed infinita trattativa sul rinnovo del contratto integrativo, disdettato a partire dal 1 gennaio scorso, è quello di arrivare ad una bozza d'accordo prima di Pasqua per poi sottoporlo all'attenzione dei lavoratori e chiudere la auspicabile intesa entro la fine di aprile. Alla riunione erano presenti la direttrice di Coppa Alto Garda Arianna Comencini, il rappresentante dell'ufficio relazioni sindacali della Federazione delle Cooperative Paolo Pettinella, poi i sindacalisti Mirko Carotta, Lamberto Avanzo e Vassiolios Bassios della Uiltux Uil. Il nodo del contendere è quello della parte fissa dell'integrativo, punto reclamato da sempre con forza dai lavoratori e sindacati, ma negato più riprese dall'azienda. Le parti hanno concordato quindi due prossimi incontri, fissati per lunedì 3 aprile e martedì 11.